CARLOTTA ASML Ciao a tutti! Come state? Spero stiate benissimo Buona domenica sera Mi auguro abbiate passato un buon weekend Io vi farò un video molto semplice oggi perché chi mi segue su Instagram sa che ieri ho avuto la mia terza Non voglio usare parole per non far nervosire YouTube e quindi ho questa parte un po' indolenzita quindi oggi chiacchiere proprio semplici e vi ho chiesto di farmi delle domande appunto su Instagram me le avete fatte? Le ho qui e ne sceglierò qualcuna a caso le più carine e le meno banali già sentite semplicemente perché a quelle domande ho già risposto in altri video domande e risposte prima di iniziare vi mostro le nuove creazioni di mia madre tra le altre che sono questi splendidi orecchini in plastica riciclata e alluminio sono nuovi ci sono in questa versione oppure in azzurro oppure in rosso c'è anche una nuova collana e vi ricordo anche che su Vinted sono scontati gli articoli e le spese di spedizione sono più convenienti è Vinted che decide allora perché questa cosa è venuta in mente di dirvelo mia madre quindi ha pensato bene secondo me di togliere a voi quello che si toglierebbe a lei su Vinted quindi voi ci risparmiate e lei guadagna la stessa quantità ecco perché su Vinted costano di meno e soprattutto la spedizione è vantaggiosa perché è Vinted che se ne occupa e non il venditore parentesi non era previsto che vi dicessi questo allora iniziamo andrò completamente a caso perché sono tantissime come vedete cominciamo dalle più vecchie non ho preparato nulla non so nemmeno quali leggerò allora vediamo un po' e le farò il nome completo mi chiede terra, acqua, aria o fuoco in cosa ti identifichi di più domanda difficilissima io in questo momento della vita direi acqua perché senza l'acqua c'è l'acqua qualcosa di fondamentale per chi è trasparente quindi è senza misteri però può essere anche molto potente se vuole in questo momento l'acqua allora questa domanda ho già risposto dunque Arianna mi chiede hai vissuto in altri paesi esteri oltre la Francia le differenze principali Francia Italia francesi italiani sarebbe un po' troppo lungo ci verrebbe un video però sì ho vissuto anche in un altro paese che è la Germania ci ho vissuto in realtà ho vissuto tra la Francia e la Germania viaggiando è stata molto dura per due anni perché qui in Francia avevo già un po' di lavoro e non volevo lasciarlo per una cosa X ipotetica quindi ho studiato un po' in Germania mentre lavoravo un po' in Francia tra i due paesi per me non c'è il minimo paragone la Francia vince le differenze principali Francia Italia francesi italiani sono troppissime ma sono troppe ma anche poche perché per esempio molti italiani credono che i francesi siano nazionalisti quando sono loro i primi a sentirsi sempre migliori degli altri in tutto che è una cosa che io non tollero l'arroganza però abbiamo tante cose in comune tante cose anche in cui siamo davvero diversi almeno in modo molto generico e anche un po' stereotipato perché poi ognuno è una persona da dove viene viene è una persona allora poi vediamo massimo massimo mi chiede forse ho già risposto a questa domanda se non fossi diventata musicista insegnante di strumento che lavoro ti sarebbe piaciuto fare anche diversi diversi nella fase pre-universitaria diciamo che mi sono tosta la domanda perché questo ambito l'ambito della musica è molto selettivo come dire è un ambito molto elitario in pochi ce la fanno scusate lo stomaco che brontola in pochi ce la fanno a vivere di chiacchiera di musica in genere appunto si fa l'insegnante la maggior parte di noi alla fine fa l'insegnante che fortunamo fare ma penso mi sarebbe piaciuto tantissimo eh fare un'investigatore privato un'investigatrice privata Gabriele a cui mando un bacione immenso perché dalla wishlist eh mi ha regalato la schedina SD che sto utilizzando per la prima volta oggi finalmente perché l'altra era fusa me l'aveva sempre regalata lui grazie mille anche qui capo mi chiede terremoto a parte e che parte quale tua fobia paura qualche tua fobia paura magari un po' curiosa Dio allora non è una paura curiosa anzi è anche abbastanza banale penso una paura grandissima che ho è stare senza le persone che amo ma non parlo di solitudine parlo proprio di partita una cosa alla quale non amo pensare perché mi fa proprio paura tanto invece cose reali cioè tipo appunto il terremoto non lo so non lo so non mi viene in mente niente di rilevante sicuro il terremoto sta sopra ogni cosa proprio e non riesco a controllarla come paura anche un po' di volare non è che vi ami troppo volare ma una volta era proprio paura estrema Laura mi chiede cosa ti piace fare quando non lavori quindi nel tempo libero allora in realtà sono molto monotona mi piace registrare anche se sto trovando molte difficoltà in questo periodo per un motivo in particolare che non è la vicina poverina anche se si è sentita già un paio di volte e sicuramente guardare un film o serie tv sicuramente leggere ultimamente sono diventata anche amante della natura poi mi piace giocare a tennis ma lì non lo faccio sempre nel tempo libero perché ci vuole anche solo la voglia ma anche cioè se sei stanco non lo fai e poi ovviamente suonare ma per me è scontato allora poi Erika del canale Ninf ASMR se non la conoscete passate dal suo canale bravissima mi chiede cosa faresti se vincessi un milione di euro mamma non penso mi basterebbe per quello che voglio fare ma subito la prima cosa che farei subitissimo è darne una parte ai miei genitori perché diciamo che se uno ci pensa ai genitori non dico che lavorano per i figli ma quasi perché buona parte dei loro dei loro guadagni poi li spendono per i figli chiaramente con amore però insomma ci sono sicuramente privati di non poche cose per darne a noi quindi questa è la prima cosa che farei poi sicuro mi comprerei una casa probabilmente la farei costruire come dico io poi vi giuro che darei tutto il resto da parte sì forse lì il resto li investirei per avere i guadagni non ho sfizi che mi vorrei togliere sono un po' triste si lo so fondamentalmente è che ho tutto quello che voglio mi piace sono mi accontento di quello che ho per il momento perché mi piace sono fortunata sinceramente più che triste allora dunque lei non so come si chiama diciamo Arta perché non vorrei svelare troppo mi chiede ci sono libri a braccio scusate ci sono libri letti di cui ti rifiuti di guardare il film perché ormai hai immaginato in un certo modo assolutamente no al contrario ogni volta che finisco un libro di cui so esistere un film immediatamente guardo il film ma non mai mi sognerei di non guardarlo proprio per la curiosità di vedere i personaggi come vengono raffigurati e molto spesso appunto non corrispondono a quello che avevo pensato io un film che non ho guardato e non penso guarderò di un libro che ho letto uno degli ultimi video che è uscito no l'ultimo è uscito giovedì è il film su 1984 di Orwell quello penso non vorrò mai guardarlo troppa angoscia allora vediamo 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 bellissima questa di Alessia che è una cuoca se dovessi scegliere di reincarnarti in un solo ingrediente stupenda quale sarebbe perché questa però è difficile Alessia cara difficilissima mamma mia difficilissima dico la prima cosa che mi viene in mente ah no ma un solo ingrediente aspetta non un solo piatto è molto difficile mamma mia non lo so troppo difficile detta così direi l'acqua un'altra volta ma non è un ingrediente ho dovuto fare un taglio per pensarci non volevo far passare troppo tempo dico solo questo e alla fine ho optato per la farina sarei semplicissima farina bianca perché con la farina si fanno un sacco di cose quindi può essere molto utile dai le dolci alle salate e poi è molto neutra come sapore né troppo forte né troppo sciopa allora la ragazza con mi chiede preferisci il cono gelato o la coppetta sono sono sempre stata una persona da cono ma ultimamente la coppetta ma solo perché nel mio cervello ci va più gelato nella coppetta posso fare quello allora Laura mi chiede riusciresti a perdonare un tradimento io vado controcorrente penso proprio di sì credo che riuscire a perdonare un tradimento che sia una caccia aperta nel senso credo che con molta fatica ma forse potrei riuscire a perdonarlo non sono di quelle che dice c'è un tradimento chiuso? no no perché capisco che si possa sbagliare certo non sto dicendo che non me ne fregherebbe nulla ok credo che con un po' di tempo e soprattutto però se vedessi che l'altra persona è veramente distrutta da quello che ha fatto questo penso che riuscirei allora allora carola mi chiede youtube è un bravo datore di lavoro questa è una cosa che vorrei spiegare tante volte youtube non è un datore di lavoro proprio per niente quelli che ci danno il lavoro diciamo così sono gli inserzionisti cioè le aziende che decidono di mettere le pubblicità le pubblicità all'inizio o alla fine o in mezzo ai nostri video creator smr in genere mettiamo solamente all'inizio la pubblicità in genere molti la mettono comunque al mezzo chi la mette solo all'inizio guadagna molto meno ovviamente ma non è youtube che ci paga youtube ci dà l'opportunità di lavorare sulla loro piattaforma e prende anche una parte delle nostre entrate quindi non è un datore di lavoro allora sto dicendo allora alla fine di ogni domanda che cosa perdonatemi ci ha molte agge ci ha già già risposto ok carina questa chiara mi chiede e conosco già la risposta se potessi scegliere un momento del passato da rivivere quale sarebbe perché non ho dubbi l'ultima volta che ho visto mia nonna perché semplice perché non sapevo fosse l'ultima non sapevo sarebbe stata l'ultima e mi ricordo che avevo molta fretta di andare via e e quindi sono stata molto frettolosa nel salutarla se avessi saputo che sarebbe stata l'ultima volta sarebbe andata molto diversamente quindi sicuramente quel motivo quel momento allora Daniel pensi di restare in Francia per tutta la vita ci sono molte domande sulla Francia mi fa questa domanda in un momento molto particolare un momento in cui ci sono tante cose che mi succedono intorno e la risposta è non lo so mi piacerebbe tornare in Italia se avessi un lavoro che mi soddisfa e che mi retribuisce come merito non solo io perché siamo in due non sono sola e certo mi piacerebbe tornare in Italia ma in Francia per ora sto bene sicuramente il motivo più importante per cui tornare in Italia quindi non rimarre in Francia sarebbero i miei genitori solo i miei genitori nessun altro nessun altro Francia ok sono praticamente finite allora Sara mi fa un'altra domanda difficilissima come faccio a rispondere se potessi leggere e riguardare solo tre libri e tre serie tv per sempre quali sarebbero? madonna allora tre serie tv una è Sherlock due è Friends questo è perché le riguardo comunque ciclicamente quindi già è un po' così è la terza serie tv mamma mia me ne piacciono troppe di serie tv sono indecisa fra troppe serie cioè troppe forse Doctor House e solo tre libri già ho visti difficoltà direi il quinto libro di Harry Potter il sesto libro di Harry Potter è Harry Potter e il prigime mezzo sangue che è il mio preferito in assoluto no però pure il cioè no i doni della morte e andiamo andiamo a spirciare un po' tra l'hub dei libri che ho letto ah ci vuole internet non lo posso fare allora 10 piccoli indiani 10 piccoli indiani di Agatacristi sicuramente e poi un bel libro tipo polziesco mi viene il terzo mi spiace è difficilissimo a tutto perché ne ho letti proprio tanti di libri quindi sicuramente ne dico uno poi ne scordo un altro ok ultima domanda allora Alice mi chiede se avessi la possibilità di uscire a cena con una vip che sceglieresti penso proprio che non saprei scegliere perché se si parla di vip non è un vip però è una persona molto famosa nel mio settore e si chiama Emanuele Bahu che è per me il più grande flautista al mondo vivente non solo per me non solo vivente e quindi già ci sono città cena non da sola ovviamente eravamo in gruppo forse con lui ma già so che probabilmente non saprei di cosa parlarci anche se è una persona molto alla mano e non saprei davvero di cosa parlare con lui avrei tante domande probabilmente forse con lui sì forse con lui bene allora spero di avervi rilassati anche con questo video veramente molto semplice mi dispiace perché avevo ripreso a fare i video un po' più elaborati ma devo prendere le cose come vengono ed è giusto così spero di riuscire a fare qualcosa di più per la settimana prossima comunque io personalmente adoro guardare questo genere di video sono i meno divertenti da fare per me perché parlo da sola praticamente però va bene così anche perché più di questo non potrei fare potrei muovere solo un braccio per il momento un bacione a tutti 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 ci vediamo giovedì con un altro video buona notte come a tutti che ho con un altro video per me Grazie.